Noi partiamo da una lettura del presente, che è una lettura quasi banale, che è la lettura dell'epoca del rinculo. Brutta parola, che però esprime benissimo quello che sta succedendo non solo in Italia, ma in tutta Europa e in buona parte del mondo, dall'India a Brasile, dagli Stati Uniti all'Europa appunto. E come rinculo non si intende una svolta a destra, si intende qualcosa di molto più complesso, di cui semmai la svolta a destra è una conseguenza. Il rinculo vuol dire la reazione, si parla di desiderio, e quindi il desiderio di reazione ha effetti della globalizzazione che sono andati molto veloci, più veloci di quanto l'animo umano forse poteva accettare. Il nuovo, l'innovazione, il cambiamento viene considerato pauroso e la paura è la cifra, la paura quindi i muri, la fortificazione, il securitarismo sono gli elementi che caratterizzano questa epoca. La lettura di questo ci porta a che cosa? A dire che allora è tutto sbagliato quello che sta succedendo perché prima andava tutto bene? No. Poi accade invece che l'altro giorno, dopo 30 anni che non si vedevano, tra 15 e 18 anni qua a Milano, vanno in strada in 120.000. Che cos'è quel popolo? È un popolo a cui della memoria frega molto in parte. Allora io mi trovo, in questo slittamento di tempi, a vedere che quello che accadeva prima del crollo delle torri gemelle, cioè la crescita esponenziale del movimento di Seattle, non era altro che una premessa e neanche maggiore di quello che succede oggi quando i ragazzi marciano in una indistinzione, scusate se vado alto con la parola, tassonomica. Non ci sono tassonomie, non ci sono gerarchie, c'è una lucidità su diritti, doveri e valori in un popolo che in questi anni è stato svilitto perché suppostamente trascorreva ore su Instagram. E quindi non si tratta di dire, ah, di demonizzare siete dei sovranisti, fascisti, Trump, i muri, Salvini, si tratta di capire quali dinamiche economiche e psicologiche ci hanno portato a quest'epoca, all'epoca del grande rinculo, a quella che meno prosaicamente Bauman chiama la retrotopia, e di capire quali errori sono stati fatti perché a questo punto si è arrivati. E quindi non puntare all'andare indietro, ma puntare alla sintesi fra tesi e antitesi, a capire che dallo scontro fra establishment politici, culturali, economici e questa reazione retrotopica porta a una sintesi. E noi cerchiamo di individuare con la nostra comunità di lettori, con la nostra comunità di utenti, con la nostra comunità di scriventi, le forme di questa sintesi.